stai ascoltando filosofia per il nuovo mondo il podcast di giorgio garzaniti filosofia tecnologia attualità e futuro per non smettere di pensare bentornati e bentornate io sono sempre giorgio e questa è filosofia per il nuovo mondo e oggi mi piacerebbe con voi parlare di una una serie che ho visto da poco tempo cioè da qualche giorno anzi l'ho finita proprio ieri e quindi fresca fresca di visione ed è la serie di zero calcare su netflix strappare lungo i bordi ormai ne avranno sentito parlare tutti l'avranno vista più o meno tutti perché davvero se ne parla soprattutto sul web in maniera ossessiva e devo dire in alcuni casi se ne parla in maniera adeguata in altri un po ci si costruisce sopra quello che si vuole vedere ma effettivamente poi il contenuto la sostanza di questa costruzione è veramente poca a mio modo di vedere perché poi c'è tutto può essere interpretato in maniera totalmente diversa dipende sempre dal posto dal quale si parla di questo io non mi stancherò mai di parlare cioè non mi stancherò mai di dire che le interpretazioni sono sempre interpretazioni che provengono da qualcuno e lo sforzo lì è sempre quello di cercare di mettersi da parte di fare una sospensione del proprio della propria interiorità della propria soggettività quando questo è possibile ma è possibile domanda da davvero da spenderci una vita e io parlerò del dal mio punto di vista cioè da quello che ho che ho notato io in questa serie da quello che mi ha colpito particolarmente perché ci sono delle cose che naturalmente mi sono piaciute altre un po meno devo dire quelle che mi sono piaciute meno sono molto molto poche però insomma è una serie che mi ha mi ha colpito devo dire anche devo fare una confessione è il primo il primo mio modo di avere a che fare con con zero calcare perché non ho mai letto nulla quindi è una è una mia mancanza va bene ok però è anche il mio primo tentativo di approccio a quest'autore e so che naturalmente dovrò al più presto recuperare la serie non vi dirò mi è piaciuto non mi è piaciuta perché io penso che voi di quello che mi piace effettivamente vi interessa un po poco vi dico cosa cosa io non ci ho visto e cosa io invece ci ho visto in questa serie non ci ho visto come molti ci hanno visto e non vi faccio i nomi ma basta cercare un po su sul web sui sui vari sui vari social su instagram insomma come molti altri divulgatori molti opinionisti molti influencer ci hanno voluto vedere una critica della totale della società contemporanea o un inno generazionale io non sinceramente non ci ho visto questo per diversi motivi non è un inno generazionale dal mio punto di vista perché non esistono inni generazionali ecco esistono delle cose che vanno bene per la maggior parte dei dei componenti una generazione ma dire che una determinata cosa sia una rappresentazione totale di una generazione è un'esagerazione perché semplicemente ci si trova con quello che si sta vedendo che si sta leggendo allora si vuol rendere universale quella cosa che si sta vedendo ma io non penso sia così almeno non è questo il caso uno perché non ci sono gli elementi che rendano questa serie una rappresentazione di una generazione che poi sarebbe la generazione degli anni 80 quindi quella nata negli anni 80 che è vissuta ed è cresciuta negli anni 90 nei primi anni 2000 ecco io faccio parte dell'ultimo pezzo di questa di questa generazione perché sono nato nel 90 quindi ormai quella generazione lì di zero calcare era un po sulla era già grande ecco diciamo però non credo che ci sono molte cose che tutti noi degli anni 80 inizi anni 90 abbiamo sperimentato c'è c'è le prime forme di instant messaging quindi c'era c'era l'MSN lo strano modo di rapportarsi attraverso MSN quello scollamento che c'era fra il te presente su quella su quel servizio di Microsoft e invece il te reale che era totalmente un'altra persona e perché sostanzialmente già allora il MSN eliminava quelle che erano le tue barriere le tue costruzioni mentali e ti mostravi in maniera totalmente diversa perché era già una barriera il non avere il non avere il medium del corpo da dover rappresentare all'altro era un qualcosa che ti rendeva in un certo senso più sicuro più sicura e quindi la tua personalità si esprimeva su un messenger in maniera totalmente diversa da come invece poi riuscivi a esprimerla dal vivo e questa è una cosa che nella quale mi sono ritrovato ma ecco sono piccolezze sono piccolezze da un certo punto di vista però non rappresenta MSN non rappresenta la mia generazione ok ci sono altre cose naturalmente che la rappresentano meglio ma una questione emerge da questo da questo punto di vista emerge il fatto che si tratta di una generazione che a metà e a metà fra la generazione precedente cioè quella che ancora era totalmente avulsa dal mondo digitale e quella che invece attuale la generazione degli ultimi vent'anni che ci si ritrova completamente immersa i cosiddetti nativi digitali noi abbiamo siamo stati un ponte fra queste due fra queste due epoche quindi abbiamo vissuto come ponte abbiamo vissuto come terra di passaggio come terra di sperimentazione e da questo punto di vista il discorso il discorso si va molto interessante perché come terra di passaggio abbiamo sperimentato anche per la prima volta sulla nostra pelle quelle che erano le difficoltà di rapportarsi attraverso attraverso questi mezzi quelle che erano le pericolosità di questi mezzi perché io ricordo già allora se ne parlava del del fatto che erano erano modi di esprimersi e di parlare con gli altri non del tutto sani tra virgolette per per i motivi che vi ho citato perché tu potevi nascondere benissimo la tua la tua persona dietro un nickname che ti nascondeva molto meglio rispetto all'anonimato che ti può permettere un facebook adesso un instagram perché perché semplicemente tu eri eri quel nickname non dovevi creare adesso nessuna nessun particolare tipo di profilo né niente tu ti registravi se non sbaglio sul live o su un profilo outlook e poi da lì potevi semplicemente scaricando messenger impostare un tuo nickname e ricordo che tutti avevano un nickname nessuno si presentava col col suo vero nome era una cosa generalizzata poi durante la conversazione ti presentavi dicevi ciao io sono se volevi cioè naturalmente volendolo io sono questo sono quell'altro piacere eccetera però non c'era la necessità non era avvertita quella necessità di dover essere per forza una persona reale con un nome ecco l'anonimato non era considerato così pericoloso come oggi quindi noi per la per la prima volta abbiamo sperimentato tutte queste queste caratteristiche del mezzo che poi sono naturalmente diventati di uso comune con whatsapp o con whatsapp o con gli altri appunto social media vi ricordate non so molti di voi ricorderanno anche i myspace no sono erano quelle quei primi blog a disposizione di chiunque che non ci voleva nulla per tirare su e in cui si scrivevano le cose adolescenziali più stupide e più veramente melenze della storia io penso che dovrebbero si dovrebbe prendere cercare di raccogliere tutto l'archivio di myspace e pubblicare un un immenso atlante perché c'è davvero da ridere da ridere lì su myspace succedeva di tutto quindi quello era davvero una diciamo è un qualcosa che accomuna questa questa visione di zero calcare alla effettivamente quella che erano le le basi della mia generazione a livello digitale soprattutto però poi ecco più che essere un messaggio generazionale il messaggio di zero calcare in questa serie è un messaggio sull'egoismo sulla sulla propria visione sul schiacciamento della propria visione del mondo su se stessi perché senza fare spoiler naturalmente parlo delle delle prime puntate già il il discorso no che 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 l'amica adesso sarà se non sbaglio si chiamasse va a zero calcare rispetto alla maestra e il fatto che la maestra non non pensa a lui non pensa che zero la derusa e quindi torna a casa beve si ubriaca perché non riesce a sopportare questa delusione no dice sarà la sua amica la l'amica di infanzia tu sei un filo d'erba come siamo tutti noi quindi questo ti deve alleggerire della tua responsabilità non sei responsabile per tutto quello che succede e questa è una cosa che poi naturalmente accompagnerà zero durante tutto il viaggio di questa di questa serie e quindi il messaggio in questo senso è che siamo cresciuti sempre e continuiamo a molto spesso durante le nostre vite a sentirci responsabili per tutto ciò che accade quindi a schiacciare profondamente la realtà su quella che è la nostra persona quindi una sempre ego riferiti sempre tutto riferito a noi stessi cerchiamo di evitare il male dell'altra persona perché non vogliamo essere noi a causarlo o pensiamo che quella persona stia male una persona naturalmente generica perché siamo noi ad avergli causato quel male mentre magari la complessità dell'altro è molto più profonda rispetto a quello che noi possiamo cogliere ok quindi il riferire tutto a se stessi è una cosa che della quale io mi rendo conto sono molto spesso vittima però ecco in questo senso mi è perso importante e il messaggio principale della serie mi è sembrato proprio questo il l'ego riferire tutto quanto quindi riferire tutto al proprio ego è una una presunzione direi titanica perché perché sostanzialmente non tutto quello che accade intorno a noi ci riguarda e non tutto quello che accade intorno a noi è così semplice da poter essere spiegato solamente riferendolo alle nostre azioni alle nostre alle nostre la nostra psicologia alle nostre a noi come causa molto molto interessante da questo punto di vista ed è la parte che mi è piaciuta di più che mi ha più coinvolto anche perché è fatto diciamo la verità per essere coinvolgente a livello emotivo questa questa serie è fatta per acchiappare da questo punto di vista non c'è poco da discuterne però è il messaggio importante il modo in cui viene messo in atto è totalmente irrilevante dal mio punto di vista però il messaggio importante il fatto di non riferire il tutto ciò che accade a se stessi e pensare se stessi come causa del mondo è una cosa forte che può essere anche portata magari io penso che la serie sia anche riferita un pubblico un po più giovane rispetto a me quello sia i destinatari siano altri rispetto alla alla generazione propria di zero io penso questo e penso anche che sia un modo di portare questo messaggio che è molto interessante e molto importante non non è non è da escludere questa cosa è il fatto che sia possibile portare un messaggio di così forte perché un messaggio importante nella costruzione di una personalità portare un messaggio così forte riuscire a portarlo in questo modo perché la serie è godibilissima e è un merito della della serie quindi da questo punto di vista e su questo orizzonte io mi sento di consigliarvela perché perché è importante non ci ho visto la critica spietata al capitalismo che molti molti invece hanno voluto ficcare dentro dentro questa serie io non sinceramente la rassegnazione di zero va bene è una cifra a quanto ho letto del suo stile e ma anche lì rassegnazione tra virgolette non c'è nessuna rassegnazione in questa serie io non ne ho visto perché comunque il protagonista anche se in una maniera non del tutto cosciente sa di crescere durante durante le sue esperienze però io non ho visto assolutamente il la possibilità di riferire la bruttezza del mondo in cui si ritrova molto spesso immerso zero a al male supremo del capitalismo quindi questa critica spietata naturalmente l'orizzonte da cui parla zero è quello dei centri sociali zero io l'ho visto molto spesso anche in televisione sulla propaganda non so se molti di voi molti di voi lo conosceranno questo programma e naturalmente è di sinistra della sinistra appunto appartenente ai centri sociali eccetera e quindi il suo punto di vista è quello sul mondo c'è poco da fare ma non ci ho visto appunto questa volontà di criticare questa critica enorme da parte di una generazione ormai rassegnata a non prendere mai il posto che è stato dei padri non ho visto mai appunto questa questo tema uscire fuori in maniera preponderante forse sia un tema di sottofondo un tema che è presente perché è inutile girarci intorno è presente però non c'ho mai non l'ho mai visto uscire dalla sua dal suo sottofondo appunto in maniera prominente il tema fondante è un tema esistenziale potremmo dire come esistenziale l'atto che che arriva che giunge alla fine della della serie che spero vediate e che anche lì non viene spiegato soltanto da questo punto di vista da quel punto di vista di cui vi parlavo ossia la lotta contro una società che tende a tenere le nuove generazioni la nuova generazione soprattutto questa generazione di mezzo ai margini la generazione che ha a cui è stato promesso tanto e che non ha ottenuto nulla ecco io non la vedo in questo modo lì anche lì viene ribadita la complessità della situazione viene ribadita l'enorme non banalità della situazione perché c'è molto altro dietro a una scelta di quel tipo vabbè non posso vorrei poterlo spoilerare ma non lo faccio quello che quello che mi ha offerto che mi ha dato questa serie è principalmente un uno sguardo sull'opera di un autore di un artista come zero molto più libero da quelli che erano anche che sono i miei pregiudizi che potevo avere nei suoi confronti rispetto appunto al mondo dal quale proviene e mi ha dato anche la possibilità di riflettere su alcune cose su sul soprattutto sul non essere noi troppo troppo riferiti sempre a noi stessi e questa è la prima cosa e soprattutto a ribadire per molti che non ci pensano alla complessità ribadire la complessità della realtà la realtà non è spiegabile solamente a prima vista e questo dovrebbero farlo molti anche di quelli che osannano l'opera di zero calcare cioè non è spiegabile la realtà così come l'opera a prima vista strappare lungo i bordi è una serie che vi consiglio quindi una serie da guardare per questi per i motivi che vi ho elencato che sono principalmente due e sono principalmente due perché tutto il resto passa anche in sottofondo tutte le difficoltà della generazione ok ma sono difficoltà che tutti hanno che tutti avranno e le avranno anche le generazioni successive alla nostra e ce l'hanno avute anche le generazioni precedenti alla nostra ma naturalmente quello che fa zero lo fa anche la nostra generazione è ego riferita assolutamente si riferisce tutto a se stessa e naturalmente questo questo è un errore e ma non può essere nemmeno altrimenti non è molto difficile molto complesso questo discorso riferi non riferirsi a se stessi significa uscire dalla propria personalità e dalla propria per dalla propria persona quindi riuscire ad avere questa sospensione del proprio essere della della soggetto che non è non è da tutti e non è non è un roba da poco ecco quindi è un è un invito più che altro ecco un invito ad abbandonare ogni tanto la propria posizione e a cercare di entrare nella posizione dell'altro che poi fondamentalmente il livello empatico però non è sempre così facile anche perché i panni dell'altro sono molto più complicati e complessi dei nostri che non lo sono perché li conosciamo bene o male molti li conoscono altri li conoscono un po meno ma comunque strappare lungo i bordi anche l'invito a non vedere la propria immagine e la propria persona come definitivamente costruita e delineata dall'inizio perché appunto è quasi impossibile strappare lungo i bordi ossia non so se avete presente quelle immagini quelle quelle illustrazioni che vi davano da piccoli che c'è scritto strappate lungo i bordi e ottenevate la figura no la figurina ecco è molto difficile riuscire a delineare la propria personalità in maniera così netta partendo a tagliare lungo questi bordi senza uscire mai da quello che noi abbiamo deciso sia il percorso ottimale per ottenere la nostra persona è decisamente impossibile è durante la vita le biforcazioni in questo caso dei nostri percorsi saranno numerose saranno è più un albero che si va creando durante durante il nostro percorso che una linea decisa è mai frastagliata ecco quindi e questo è anche ciò che fa vedere a zero il la possibilità effettivamente di raggiungere l'obiettivo per come ce lo si era delineati all'inizio non è tanto l'obiettivo che cambia ma è la strada da percorrere che molto è totalmente differente magari è un po più lunga di quello che c'eravamo prefissati magari non raggiungeremo mai quell'obiettivo ma comunque strappare tagliare lungo i bordi è qualcosa di veramente veramente difficile e che molto spesso non avviene per come noi vorremmo che avvenisse e per questo io credo che sia poco criticabile questo punto del racconto di zero perché molti si e la rassegnazione ha detto non si raggiunge mai secondo lui la la possibilità di avere quello che si desidera dalla propria vita ma non è così non è questo il messaggio questo significa voler semplicemente portare una propria ideologia un proprio contenuto interiore a una cosa che nella serie non c'è è un sovra pensiero della serie quindi io vi invito ad andare a vedere questa serie perché è molto molto carina naturalmente zero è un disegnatore bravissimo quindi vi invito ad andarlo a vedere ditemi cosa ne pensate ne parliamo insieme io sarei davvero grato che qualcuno mi scrivesse rispetto a questa serie perché ho davvero bisogno di parlarne di parlarne con voi di capire cosa ne pensate se quello che io ci ho visto è soltanto una mia costruzione o meno perché può anche essere così ne sono consapevole quindi fatemi sapere cosa ne pensate se anche voi l'avete vista se ci avete trovato qualcosa di totalmente differente da quello che ci ho visto io e sapete dove trovarmi su tutti i social potete scrivermi via mail dove vi pare sul telegram è molto apprezzato perché è molto più veloce la cosa quindi ricordatevi sempre di seguire filosofia per il nuovo mondo per non smettere di pensare un abbraccio grazie a tutti